Il talentino classe 1999 viene valutato circa 8 milioni di euro il benevento si gode Enrico Berignola. Il gioiellino casertano ha conquistato la ribalta della nazionale Under 21 grazie alla fiducia di Roberto De Zerbi che l'ha lanciato in serie da titolare a novembre. Dieci presenze e soprattutto tre reti segnate che non sono passate inosservate neppure tra gli operatori di mercato. L'esterno offensivo classe 1999 è stato già visionato dal vivo da Fiorentina, Sassuolo e Milan. E in estate potrebbe diventare un vero e proprio protagonista del calciomercato. Per strapparlo ai giallorossi del presidente Vigorito servono circa 8 milioni. Grazie. 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 Grazie.